ciao Francis ciao Flavie cosa fate oggi? oh state consegnando delle lattine di finta neve ai bambini sono sicura che lo adoreranno attento Francis sembra scivoloso oh no stai bene sei tutto bianco Francis penso che tu abbia bisogno di una visita all'autolavaggio di Tom è una buona idea Francis Flavie potrebbe darti un passaggio fino all'autolavaggio ciao Tom a Francis serve il tuo aiuto è coperto di neve finta appiccicosa penso che sia arrivato il momento di seguire Tom Francis ok Francis sei pronto per essere lavato? oh è uno speciale macchinario di lavaggio natalizio Tom wow Francis quanta schiuma non ti vedo più Tom ma così non avrà perso la sua lucentezza cosa farà quello? che cos'è Tom? ah è cera con quella il colore di Francis tornerà bellissimo ecco ok ha ho wow Francis hai un aspetto migliore che mai Tom hai fatto un ottimo lavoro Francis è pronto per tornare al lavoro ora ma da dove viene quella palla di neve Tom? chi potrebbe essere stato a lanciarle Tom? oh tu sai chi è vero Tom? dove state andando tutti? ah ora capisco ti abbiamo scoperto baby Tom ah ah beh divertitevi ragazzi ci vediamo presto l'autolavaggio di Tom caspita cosa ti è successo baby Susie? ah sei stata ad una gara di bolle e la tua ti è scoppiata addosso? non ti preoccupare l'autolavaggio di Tom può risolvere il problema vieni dai segui Tom baby Susie ti ripulirà e ti farà brillare di nuovo in un baleno da dove iniziamo Tom? questo è un buon inizio il getto d'acqua dovrebbe ammorbidire un po' la gomma ma qui ci vuole una pulizia veramente profonda che ne pensi di un bel bagno schiuma rilassante baby Susie! adesso raschiamo via tutta quella gomma appiccicosa il passo successivo è quello delle spazzole sei pronta? hai già un aspetto molto migliore ora ti risciacquiamo freddo? non ti preoccupare Tom sta per accendere gli essicatori che ti riscalderanno ben bene sei ben riscaldata ora? che ne dici Tom? baby Susie è a posto? ah buona idea una mano di lucido farà brillare di nuovo baby Susie! hai quasi finito pronta per il lucido? hai un aspetto meraviglioso come ti fa sentire? hai fatto un ottimo lavoro Tom oh attento a quella schifezza ecco qua fatto ciao baby Susie cerca di rimanere pulita Tom ci vediamo la prossima volta l'autolavaggio di Tom Matt l'auto della polizia sta andando veloce ci deve essere un'emergenza wow è l'ercio che cos'è successo Matt? stavi inseguendo un'auto che nella corsa ha ribaltato un bidone? questo spiega il motivo per cui hai così fretta di arrivare al nuovo autolavaggio di Tom andiamo a ripulirti Matt segui Tom da che cosa si comincia Tom? un getto d'acqua per rimuovere la sporcizia grande ora dobbiamo togliere un po' di quelle macchie vuoi che Tom usi del bagno schiuma in modo da diventare oltre che pulito anche profumato? va bene è tempo di strofinare via quelle macchie di sporco pronto per le spazzole Matt? ok risciacquiamo via quelle bollicine ora resta dove sei Matt e Tom accenderà gli essicatori sembra che ti stia piacendo Matt fatto Tom hai finito di pulire Matt? buona idea il bagno schiuma ha funzionato bene ma un po' di deodorante lo sbarazzerà sicuramente di ogni residuo di odori wow Matt sembri un uovo di zecca e odori di buono anche Matt è davvero contento di essere di nuovo pulito grazie di tutto Tom aspetta che cosa ha visto Tom? oh oh è una buccia di banana attento Matt oh no sta finendo contro quel bidone sei fortunato che questo bidone era vuoto Matt rimani pulito mi raccomando Tom noi ci vediamo la prossima volta ciao ragazzi non è una bellissima vigilia di Natale? è la notte perfetta per gustare una tazza di cioccolata calda con un amico wow che cosa è stato? come? pensi che Babbo Natale sia appena atterrato sul tetto? cosa pensi di fare Rocky? non puoi salire su per il camino oh vorresti infilarci solo la testa per vedere se riesci a individuare Babbo Natale? baby Hector tu controlla il tetto accidenti crochi c'è un sacco di fogligine lassù oh niente Babbo Natale era solo un mattone al tetto allentato che si muoveva e che ha fatto cadere tutta quella foligine farai meglio ad andare all'autolavaggio di Tom a farti ripulire Rocky ciao Tom indovina cosa ha cercato di fare Rocky? guardare su per il camino di baby Hector per incontrare Babbo Natale puoi aiutarlo a ritornare pulito per Natale? grande andiamo dentro qual è il primo passo Tom? ovviamente usare la doccia per spruzzare acqua su Rocky in modo che sapone faccia schiuma ciao baby Tom cosa stai combinando? aiuti tuo padre? sciocchino volevi solo soffiare su Rocky in modo da vedere le nuvole di fuligine vero? meglio correre via baby Tom o finirai col fare una doccia anche tu ora che Rocky è bagnato cosa si fa Tom? arriva il sapone per levare lo strato superficiale di puligine è difficile portare via la fuligine quando è tanta eh Rocky? come toglierai la fuligine rimasta Tom? una gomma? veramente? lo stai proprio lisciando eh Tom? ehi ha funzionato la fuligine è venuta via completamente è tempo di un veloce risciando e infine dell'asciugatura Rocky ecco fatto Rocky sei a posto non dimenticare di fermarti allo stand dei dolcetti mentre esci una gomma da masticare assomiglia quasi alla gomma di prima grazie per il tuo aiuto Tom Rocky ha un aspetto fantastico ora ci vediamo la prossima volta amici buon Natale ciao ragazzi che meravigliosa giornata invernale state cercando un albero di Natale? ah state cercando l'albero di Natale perfetto eh? che meravigliosa giornata invernale che mi dite di quello? eh eh grandioso ma com'e abbatterete l'albero? con quel gancio vediamo attenti oh no Sam stai bene? oh meno male che non sei ferito ma penso che dovremmo andare all'autolavaggio di tom ciao tom ciao baby tom wow ma come sono belle quelle decorazioni a proposito Sam lo spazzaneve sta arrivando qui per un lavaggio ha alcune decorazioni insolite ciao ragazzi giusto in tempo tom ha appena finito di decorare il suo autolavaggio Sam entra pure cominciamo subito cosa c'è per primo tom? tom non c'è tempo per i regali ora dovremmo prenderci cura di Sam va bene aspetteremo e vedremo allora una pistola d'acqua che forza ti stai divertendo baby tom bene gli aghi di abete se ne sono già andati ora bisogna liberarci della resina delle calda arroste qual'è il tuo piano? ah quindi la resina si scioglierà con il calore e gocciolerà via da Sam buona idea baby tom tuo papà deve tenere d'occhio le castagne può iniziare tu in trattamento finale qual'è il prossimo passo baby tom? ah ecco un bagno natalizio buona idea ok Sam prepariamoci per arrivare ben puliti a natale ti piace vero? quando hai finito tom e baby tom ti aspettano all'esterno ma guardati Sam sei davvero splendente hai ragione frank come farete a prendere un albero di natale adesso è tutto buio Sam tom dice che potete prendere il suo non avrete nemmeno bisogno di decorarlo oh è così gentile da parte tua tom e ora godetevi il natale amici miei noi ci vediamo prestissimo ciao 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 Grazie